carissimi pace buona giornata dio vi benedica oggi grazie a dio è 26 maggio sono le 7 del mattino e voglio condividere con voi due versi che si trovano nell'epistola ai romani capitolo 1 di quest'epistola verso 20 e verso 21 nel parlare di dio paolo afferma che le sue qualità invisibili la sua eterna potenza e divinità si vedono chiaramente fin dalla creazione del mondo essendo percepite per mezzo delle opere sue perciò essi gli uomini sono inescusabili perché pur avendo conosciuto dio non l'hanno glorificato come dio né l'hanno ringraziato ma si sono dati a vani ragionamenti e il loro cuore privo di intelligenza si è ottenebrato chissà quante volte abbiamo sentito dire delle persone dio non esiste e da altri se dio esiste venga si faccia vedere allora io riconoscerò che lui c'è il verso di stamattina ci dice chiaramente che l'esistenza di dio è dimostrata dalla creazione e che l'esistenza di dio si vede nella creazione quindi un giorno tutti quanti dovremmo rendere conto di questo e nessuno potrà dire io non sapevo che tu esistessi veramente né io ti ho chiesto di farti vedere tu non ti sei fatto vedere perché appunto dio si manifesta e la testimonianza della sua esistenza è presente nella creazione il problema quindi non è la rivelazione di dio perché dio si rivela già nella natura il problema è il fatto che gli uomini pur realizzando che un dio deve pur esserci appunto tramite la testimonianza della creazione stessa preferiscono negare la sua esistenza darsi avvani ragionamenti e anziché ringraziarlo cercarlo e sottomettersi seguire le proprie vie e le proprie opinioni dio c'è dunque la natura ci testimonia della sua esistenza e questo ci deve aiutare ad avere un giusto rapporto con la creazione nel guardarla nell'ascoltare i rumori della natura dovremmo essere ogni giorno grati e riconoscenti a dio e soprattutto dovremmo ogni giorno magnificare il nome la sapienza l'intelligenza e la grandezza di dio e se tutto quello che dio ha fatto oggi e che i nostri occhi possono contemplare è bello immaginate quanto ancora più bella sarà la gerusalemme celeste quanto ancora più belli saranno i nuovi cieli e la nuova terra che dio ha promesso per quelli che hanno fede in lui perciò ci dia il signore un cuore intelligente per poter riconoscere che dio c'è ci dia il signore un cuore intelligente per poterci sottomettere alla sua parola e ci dia un cuore intelligente anche affinché possiamo accettare cristo nella nostra vita come nostro salvatore perché se è vero che la gerusalemme celeste sarà magnifica e altrettanto i nuovi cieli e la nuova terra è altrettanto vero che lì vi entreranno soltanto coloro che avranno fatto di cristo il proprio signore e salvatore perché questo perché tutti quanti noi esseri umani tutti abbiamo peccato anzi tutti siamo peccatori e siamo di conseguenza privi della gloria di dio e come dice paolo sempre nell'epistola ai romani il salario del peccato cioè della nostra trasgressione della legge di dio è la morte la separazione l'allontanamento dalla gerusalemme celeste dai nuovi cieli della nuova terra ma il dono di dio è la vita eterna in cristo gesù in altre parole se riconosciamo i nostri peccati se ci pentiamo se li confessiamo se ci ravvediamo se invochiamo il sangue di gesù come mezzo per il lavacro dell'anima nostra noi abbiamo la certezza che un giorno potremo vedere il signore faccia a faccia può sembrare ripetitivo questo concetto ma il fondamento della fede e nessuno potrà un giorno entrare nel cielo perché è stato bravo su questa terra o perché in qualche modo ha cercato con i propri sacrifici di fare la volontà di dio la bibbia ci parla di un uomo si chiamava cornellio era un centurione romano e ci dice che questo uomo era pio era timorato faceva le lemosine pregava il signore cercava in tutti i modi di vivere una vita che gli potesse essere gradita eppure leggiamo che dio mandò pietro da lui affinché gli annunziassi il vangelo di gesù cristo e affinché questo uomo pio timorato bravo rispettabile onesto eccetera potesse riporre la sua fede non in quello che lui aveva fatto ma in quello che cristo aveva compiuto sulla croce e se cornellio ha avuto bisogno di un salvatore anche io e te abbiamo bisogno di un salvatore esattamente come qualsiasi uomo di questa terra perciò nel riconoscere che dio c'è ed esiste così come c'è testimoniato dalla creazione vogliamo altresì riconoscere che tutti quanti noi abbiamo bisogno di essere salvati dall'ira di dio avvenire attraverso il sacrificio di cristo ed ecco perché ogni giorno ci dobbiamo in lui rifugiare ed ogni giorno ci dobbiamo appellare a lui per poter essere certi che quando compariremo dinanzi a dio non saremo gettati nell'inferno ma potremo entrare nei nuovi cieli nella nuova terra nella gerusalemme celeste che egli ha preparato concludendo ogni giorno nel guardare un aurora un tramonto nel vedere le bellezze della natura diamo gloria a dio e ogni giorno quando ci troviamo a compiere qualcosa che a dio non piace chiediamo perdono a dio e camminiamo con un cuore grato per tutto quello che il signore è e per tutto quello che il signore fa entreremo nel cielo saremo con lui per l'eternità e godremo della nuova creazione che egli ha preparato per quanti su questa terra lo avranno amato cercato e temuto che dieci benedica e ci accompagna ancora oggi